Perché uno dovrebbe preferire un basso fretless ad uno normale? Secondo me potrebbero esserci diversi motivi. Innanzitutto è una questione di timbro. Il basso fretless non avendo i tasti ha un attacco molto più morbido, a cui spesso viene associato ad esempio il suono del contrabbasso, quindi se non ho possibilità di portare un contrabbasso, con un fretless potrei avvicinarmi un po' di più al suono rispetto a un basso normale. Ad esempio, altrimenti il basso fretless, il suono del basso fretless, spesso viene anche associato al suono della voce umana, quindi nella parte più acuta dello strumento. È molto lirico e quindi potrebbe funzionare bene se hai delle frasi appunto sulla parte acuta in cui vai a ricordare un po' la voce umana. Quindi perché scegliere un basso fretless? È una questione di sensibilità. Grazie.